Musica Buonasera amici telespettatori di Udinese TV, in questa puntata di Fuori Tutto ci occupiamo del servizio idrico nella nostra regione. E' tempo di riorganizzazione, il titolo che abbiamo dato a questa puntata è Risico Acqua, per chi non lo sapesse il risico è un gioco da tavola, un gioco di strategie militari, qui non siamo a guerre con cararmati e con cannoni ma al massimo con pistole ad acqua, scherzi a parte strategie che potrebbero interessare anche questo comparto, perché parliamo di strategie e abbiamo associato questa puntata, il concetto di questa puntata e il tema al gioco del risico. Perché c'è una strategia in atto in questo momento di riorganizzazione ma bisogna fare attenzione, perché da un lato bisogna garantire il servizio idrico, l'acqua è un bene pubblico, dall'altro bisogna salvaguardarsi da quelle che sono operazioni che potrebbero interessare anche altre regioni limitrofe, con il rischio di non poter tutelare il patrimonio idrico della regione Friuli Venezia Giulia. Ma veniamo nello specifico con il primo punto di questa puntata, dicevamo è tempo di riorganizzazione nel settore idrico della nostra regione, dal primo gennaio i comuni dell'Alto Friuli, che attualmente sono serviti dalla società Carniacque, finiranno all'interno del CAF, che è il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, che quindi allarga con queste acquisizioni i confini della sua operatività. Ma cosa cambierà in termini di investimenti, di operatività appunto, ma soprattutto di tariffe per gli utenti? Sentiamo il presidente del CAF, Edi Gomboso, con David Zanilato. Siamo venuti nella sede del CAF, il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, con l'amministratore unico Edi Gomboso e con lui partiamo ad analizzare la situazione nel mondo del sistema idrico integrato della provincia di Udine, che vede il CAF attualmente la maggiore società appunto attiva sul territorio, che tra breve sarà interessata da un primo passaggio di aggregazione con l'incorporazione di Carniacque, quindi la famiglia del CAF si allarga? Sì, si allarga perché appunto dal primo gennaio 2017 avremo la responsabilità di gestire tutto il mondo della provincia di Udine che riguarda la montagna, il prevalente. La stiamo facendo già questa esperienza nelle valli del Torre della Natisone, ma la Carnia e il Canal del Ferro alla Valcanale rappresenteranno un impegno importante per la nostra società. Una fusione che scatterà dal primo gennaio, cosa cambierà operativamente per voi? Ma diciamo resteranno le due realtà di riferimento sotto il mezzo di Tervisio, quindi le squadre operative che attualmente lavorano in Carniacque manterranno la loro posizione su Carniacque. Parte del personale appunto in queste prossime settimane definiremo, quindi entro il 7-8 di dicembre, ci sarà anche un riferimento preciso sulle unità che arriveranno qui a Udine, all'incirca dovrebbero essere inferiori alle 15 unità rispetto alle 45 che sono quelle che fanno parte della compagine di Carniacque oggi. Che cosa cambierà concretamente invece per l'utente finale, per il cittadino? Il costo della tariffa aumenterà, varierà in che maniera? Allora, rispetto a quelle che erano le tariffe in essere nel 2016 e anche per la proiezione del 2017, non ci sarà alcun cambiamento, quindi l'autorità d'ambito, la consulta d'ambito ha già di per sé proiettato quali saranno le tariffe nel 2017, quindi l'avvento del nuovo gestore non modificherà quello che era la realtà di Carniacque. Chiaramente ecco quello che cambierà e quindi la sfida che noi cogliamo è quella che CAP dovrà procedere così a fare notevoli investimenti su questi territori, territori che hanno la caratteristica di essere poco popolosi e hanno la necessità invece di avere tutti quei requisiti che hanno necessità oggi di esprimersi con piccoli impianti di depurazione anche nelle piccole località. Quindi questa è la sfida che noi per certi versi cogliamo e quindi cambierà sotto questo aspetto. E poi è da tenere presente, e questo è un elemento che deve essere chiaro da parte di tutti i cittadini della nostra regione, è che a partire dal 2009 si è modificato radicalmente il modo di procedere nelle attività che si svolgono nel servizio idrico, nel senso che mentre prima c'era una sorta di fiscalità generale, quindi contributi dello Stato e delle Regioni che andavano a favore anche di interventi significativi sui territori, anche nel servizio idrico, oggi gli investimenti invece si fanno con la tariffa. Quindi il sistema tarifario oggi impone che la tariffa che io e lei paghiamo e che i cittadini pagano devono comprendere le spese generali, il buon funzionamento della società, ma anche gli investimenti. Quindi è chiaro che è cambiato il mondo. Mentre prima, quindi anche in queste settimane, si è svolto un dibattito sul perché dal 2007 al 2008 ci sono stati così incrementi significativi sul territorio, appunto perché è cambiato il modo e anziché pagare, non so, tasse in termini generici che poi vanno a devolversi per sostenere anche il servizio idrico, oggi il centro di costo servizio idrico deve essere pagato dalla tariffa. Tornando al ruolo di Kafka, anche nel resto della provincia di Udine, da alcuni anni avete incorporato Ramoacqua di Amga per quanto riguarda la città di Udine, come sta procedendo anche in questo caso il vostro servizio sul capoluogo friulano e in prospettiva, secondo appunto le direttive della normativa nazionale, dovrete anche incorporare il Poiana che è l'altro consorzio attivo in provincia. Sì, ecco diciamo noi partiamo dal 2009 che è il punto di riferimento come accennavo prima sulle modifiche legislative che hanno portato al riconoscimento della salvaguardia dei gestori operanti sul territorio regionale. Noi allora avevamo sulla provincia di Udine sei gestori operanti, il più significativo restava Katk, poi c'era Amga che gestiva la città di Udine, poi c'era il consorzio di ripurazione laguna nella bassa friulana, poi c'era Carniacque, c'era il Poiana nella zona del Cividalese e un piccolo gestore privato che salvaguardava comunque l'autorità d'ambito che gestiva tre impianti di depurazione della provincia che era la CID. A oggi diciamo meglio a partire dal primo gennaio 2017 sulla provincia di Udine opereranno due gestori, siamo noi, CAF che incorpora anche come ultimo Carniacque, in precedenza abbiamo incorporato la CDL, abbiamo incorporato Amga, abbiamo risolto le problematiche con la CID e nel 2023 la scadenza naturale, quella di Poiana, chiaramente con questa realtà territoriale, noi operiamo già in termini di collaborazioni strette anche inizialmente con forniture anche di acqua e quindi erano forniture di soccorso che venivano gestite in termini reciproci perché siamo una rete collegata e quindi si creano questi elementi di solidarietà anche nel momento in cui c'è necessità di dare acqua, lo si fa in termini normali ma poi ci sono altre collaborazioni che riguardano un po' tutte le attività nel settore quindi anche approfondimenti dal punto di vista tecnico scientifico. Nel 2023 alla scadenza naturale della concessione il Poiana non sarà più rinnovato perché il gestore riconosciuto dall'autorità d'ambito è quel gestore che serve perlomeno il 25% della popolazione quindi sulla provincia di Udine i 500.000 abitanti rappresentano nel contenitore CAF che è l'unico gestore che può sostenere queste cose. Ci auguriamo che le collaborazioni anziché alla scadenza 2023 possano anche magari essere anticipate prima comunque c'è già un'attività di collaborazione che noi abbiamo questo gestore. A proposito di questo risico societario che interessa il Friuli ma anche realtà italiane ci sono alcune preoccupazioni che emergono sul fatto che in futuro l'acqua del Friuli potrebbe finire in mani diciamo così tra virgolette e foreste. Voi come rispondete a queste preoccupazioni? Ma noi rispondiamo anche con innanzitutto la consapevolezza che noi siamo una società pubblica, una società in aux dove tra l'altro i comuni che fanno parte della società non sono comuni che determinano in termini significativi il condizionamento dell'assemblea nel senso che il comune più importante che il comune di Udine all'interno della società pesa il 3-28%. Quindi la nostra rappresentanza sociale è talmente polverizzata dove in effetti è proprio il massimo di quello che può essere considerata la rappresentanza pubblica di una società in aux. Chiaramente siamo preoccupati perché in effetti le società in aux nel momento in cui si presentano quindi interamente pubbliche dove in effetti non c'è il comune che fa da mattatore ma c'è questa compagine così molto sparpagliata in termini anche di rapporto e di rappresentanza societaria. Chiaramente ci troviamo in una condizione che ho sempre registrato che le società in aux oggi rappresentano un po' sono delle anne tra zoppe nel senso che alla fine sono vincolate all'assunzione quindi anche le società tipo le nostre che hanno chiuso lo scorso anno e negli anni precedenti con utili significativi di qualche milione di euro e alla fine avrebbero la previsione oggi di poter in qualche modo tranquillamente senza continuando a fare utili siccome hanno una proiezione anche nei prossimi decenni di investimenti significativi perché il piano d'ambito approvato rappresenta un impegno trentennale ecco alla fine noi avremo bisogno oggi di fare delle assunzioni siamo in una condizione in cui siamo legati a quei vincoli che sono i vincoli degli enti locali e questo rappresenta per una società che poi si identifica come società spa una sorta di frenata è uno degli esempi questi dell'immobilismo delle società in aux ma ecco direi questo che siccome la proprietà e dei comuni siamo nella condizione che noi risponderemo con attività e con l'aggregazione lo faremo anche in un convegno importantissimo che si terrà domani qui presso la nostra sede che coinvolgerà tutti i gestori della nostra regione dove parleremo delle ricadute dei provvedimenti dei provvedimenti madia sulle società in aux proprio e andremo anche a vedere con soddisfazione e quindi approfondire quello che ha fatto la regione veneto con la società viveracqua dove rappresenta il raggruppamento di tutte le compagini societari operanti nel veneto nel servizio idrico e dove hanno costituito una società che viveracqua con l'emissione di idro bond e quindi la possibilità di attingere i fondi della banca europea di investimenti significative risorse anche a costi contenuti è chiaro che le società in house devono essere difese e quindi per questo motivo noi cercheremo di operare anche a livello regionale in una sorta di aggregazione che superi in allineati anche con quelli che saranno le modifiche che interverranno anche nel 2017 dove in effetti non ci sarà più una consulta d'ambito provinciale ma ci sarà un'unica consulta regionale importante e quindi l'avvento dell'ausir quindi che si tratterà acqua e servizio di servizio idrico anche i rifiuti rappresenteranno degli elementi di riferimento in cui una società più robusta e quindi una compagine di società in house più robusta e potranno anche in qualche modo essere tranquille e operare senza quelle preoccupazioni a cui ce n'aveva lei in cui ci si vada si vada a finire in altre mani il mondo dell'acqua è un servizio primario che noi vogliamo difendere lo vogliamo mantenere in mani pubbliche chiudiamo con gli investimenti ne ha parlato più volte lei presidente gomboso siamo anche a 40 anni dal terremoto che ha segnato uno spartiacco nel friuli anche a livello di urbanizzazioni quali sono gli interventi e gli investimenti più necessari nella provincia di Udine che voi porterete avanti nei prossimi anni ma diciamo sono investimenti soprattutto nei prossimi nel quadriennio quindi il piano di attuazione il piano generale è un piano trentennale però diciamo le finestre si aprono sui quattro anni quindi nei prossimi quattro anni grandi investimenti saranno nel settore della fognatura e della depurazione in particolare chiaramente significa per noi investimenti sull'ordine con l'aggregazione di carni e acque di circa 22 milioni di 3 milioni all'anno di investimenti ecco possiamo dire che l'80% di questi investimenti andranno nel servizio della fognatura e della depurazione riguarderanno agglomerati importanti che sono quelli della bassa friulana dove in effetti c'è la necessità di fare grandi interventi fognari e quindi anche collegamenti poi agli impianti di depurazione ma soprattutto riguarderà anche interventi sull'intero territorio regionale la carni appunto sarà uno anche di queste parti del territorio dove in effetti dovremmo concentrare la massima attenzione chiaramente dovremmo salvaguardare in tutte queste cose il territorio in generale ma dovremmo salvaguardare soprattutto i poli turistici quindi il polo di Lignano con gli interventi importanti massicchi che stiamo completando e stiamo facendo nel corso di questi anni ma soprattutto anche tutte le fasi importanti che riguardano anche i poli turistici della montagna e adesso andiamo a vedere in che situazione si trova Carniacque la società che gestisce attualmente i comuni dell'Alto Friuli per quanto riguarda il servizio idrico che però dal primo gennaio questi comuni come abbiamo appena detto passeranno al CAF una società Carniacque che è finita in passato in mezzo a polemiche politiche soprattutto sulla gestione c'è un buco che riguarda il bilancio di questa società facciamo il punto con Fabrizio Lucas che ne è il presidente Con il presidente di Carniacque SPA Fabrizio Lucas andiamo a chiarire qual è stato il percorso che ha portato la società alla incorporazione attraverso la fusione con il CAF mesi di duro lavoro presidente Lucas che con la fine dell'anno insomma porteranno al risultato sperato Sì confermo che al 27 di dicembre firmeremo l'accordo di fusione definitivo con la CAF SPA e quindi Carniacque verrà inglobata confermare nel consorzio pubblico del Friuli Centrale Il percorso è stato abbastanza travagliato, obbligato per legge ricordo che a fine 2015 la normativa nazionale è cambiata e ha costretto i gestori più piccoli tra cui Carniacque e dell'altro Friuli a unirsi con un gestore d'ambito che avesse almeno il 25% degli utenti dell'ambito di riferimento questo era per legge il gestore provinciale CAF così è avvenuto e per quanto concerne gli utenti ho letto un po' sui giornali in questi giorni preoccupazioni, lettere aperte non cambierà nulla nel senso che il servizio verrà gestito con la stessa serietà e diligenza sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo per questioni delle bollette ricordo che il faraginoso sistema attualmente vigente di bollettazione prevede in automatico un adeguamento prima al 2020 adesso forse sarà anticipato al 2018 con i livelli tariffari di CAF con un aumento fisso del 6,5% del bollettato ogni anno su base anno quindi nessuna sorpresa nemmeno su quel punto di vista Il percorso di fusione scontava anche una situazione debitoria della società di Carniacque accumulata nel corso degli anni lei è entrato in carica dal 2014 che cosa ha trovato e come ha cercato di sistemare i conti? Sì, è da luglio 2014 che reggiamo il servizio integrato dell'Alto Friuli i conti erano parecchi in rosso oltre 5 milioni di debito nei confronti degli stessi comuni soci dovuti a mutui per interventi di efficientamento e manutenzione delle reti idriche non poi restituiti dalla società secondo il piano economico e finanziario della consulta d'ambito attualmente la situazione debitoria è molto più ridotta e la società è riuscita a restituire ai soci comuni i rati del 2010 e del 2011 che erano in evasi e con CAF che SPA c'è un piano di rientro prestabilito che in 5 anni verrà saldati i 4 e passa milioni di euro che restano In questi anni in cui appunto è stato a contatto con il servizio idrico integrato e tutto quanto ne consegue che situazione si prospetta ora anche con la nascita dell'Ausir questo ambito che raggruperà sia il servizio idrico che i rifiuti? Sì, ecco ricordiamoci è una previsione di norma regionale che però non è in contrasto con il codice interambiente per una regione di taratura medio piccola come la nostra da un punto di vista ci sono dei vantaggi perché riesce a efficientare anche i costi e non fare duplicazioni di linee di intervento per altro verso è una situazione orograficamente difficile non parlo solo dell'alta montagna ma anche diversità tra costa e pianura e quindi ci sono dei dubbi sulla reale e concreta applicazione sicuramente un gestore unico in ambito regionale acqua e rifiuti apre la porta a soggetti sicuramente di fuori regione e privati per adesso tranquillizzo tutti CAF che è un soggetto pubblico in house providing quindi è nella piena potestà delle amministrazioni comunali socie decidere sia le linee programmatiche che di investimento Andiamo adesso ad ascoltare invece chi contesta l'aggregazione dei comuni dell'Alto Friuli al CAF in particolare il comitato delle popolazioni dell'Alto Friuli abbiamo ascoltato il portavoce dei comitati Franceschino Barazzutti il timore in particolare è quello di perdere il contestano più che il timore perché avverrà dal primo gennaio contestano il fatto di perdere il diritto alla gestione del proprio patrimonio idrico a te David Manca poco più di un mese all'avvento della fusione tra il CAF il consorzio acquirato Friuli centrale Carniacque una entità che appunto raggrupperà la stragrande maggioranza dei comuni della provincia di Udine Franceschino Barazzutti portavoce dei comitati che cosa vi preoccupa di più di questo processo? in questo processo io ho visto per quanto possibile le carte c'è un elemento certo che continua l'accentramento della gestione del servizio idrico è iniziato con la spogliazione dei comuni e concentramento in Carniacque adesso siamo alla seconda tappa concentramento Carniacque chiude viene assorbita dal CAF io ritengo che avverrà un ulteriore momento in cui anche il CAF verrà concentrato in qualcosa di più grosso sulla stampa locale tempo fa ecco è apparso un trafiletto molto interessante eravamo a luglio di questo anno in cui al CAF c'è stata una visita di un tal signore che si chiama Mauro D'Ascenzi che è il vicepresidente di Utitalia cioè della associazione che raggruppa tutte le grandi multiutility tanto per dirci anche ERA parliamoci chiaro ecco l'associazione che riunisce a livello nazionale le imprese idriche, energetiche e ambientali e dice che sono state fatte insomma nuove prove di aggregazione di aggregazione ci preoccupa questa verticalizzazione in modo particolare preoccupa noi dovrebbe preoccupare la montagna perché da queste centralizzazioni noi la montagna ha solo da perdere già pensavano dico pensavano di risolvere i problemi del servizio idrico in montagna togliendolo ai comuni e concentrandoli in carniacque avevano presentato carniacque come la gallina dalle uova d'oro invece non è stato così non è stato così tra l'altro su carniacque noi auspicchiamo che l'autorità giudiziaria e anche quella contabile vada a vedere come stanno le cose perché non è possibile che le cose si chiudano così con una fusione senza capire quali siano le responsabilità in montagna gli insediamenti sono estremamente dispersi e piccoli quindi pensare a una gestione centralizzata è un errore qui bisogna ritornare alla responsabilizzazione delle piccole comunità l'acquedotto appartiene alla comunità locale che deve farsi carico con l'aiuto della regione e dello stato se vogliono mantenere la gente in montagna diversamente periodicamente leggiamo le statistiche che perdiamo popolazione e perdiamo popolazione i favorevoli a questa fusione sostengono che era l'unica strada da percorrere per poi coprire i mutui che vantavano i vari comuni soggi di carniacque allora innanzitutto quando io dico che bisogna andare a vedere la situazione di carniacque quali mutui sono stati attribuiti a carniacque di quali opere e come mai carniacque doveva coprire anche restituire ai comuni il 30% dei propri introiti ricordiamoci e questi i comuni non hanno voluto e adesso assistiamo abbiamo assistito all'assurdità che i comuni conferivano a carniacque la gestione delle proprie strutture idriche e carniacque utilizzava i dipendenti comunali per fare i lavori tanto vale che l'avessero fatta direttamente quegli operai dipendenti comunali senza ricorrere alle strutture di carniacque certo che dal momento che carniacque ha maturato quella situazione debitoria lì a un certo punto i comuni dovevano avere dei soldi e allora si dice salviamo tutto e tanto il CAF pagherà tutto ma se carniacque non è stata non ha retto con le tariffe piene mi dovete dire come farà il CAF a reggere con le tariffe piene dovranno aumentarle via via questa è la situazione chi invece non ha di questi problemi almeno al momento e sicuramente fino al 2023 è il consorzio acquedotto Poiana che serve l'area del Cividalese ed è il più antico del Friuli rimarrà quindi attivo continuerà a gestire i comuni che attualmente sono sotto il suo controllo fino al 2023 facciamo il punto con il presidente Attilio Vuga con il quale però si parla anche degli scenari futuri e qui entra a gioco il discorso del risico attenzione a quello che potrebbe accadere in futuro con altre regioni altri ambiti che potrebbero essere interessati al patrimonio idrico della nostra regione David ne parlevamo proprio con il presidente Gomboso l'altro consorzio ancora operativo comunque dal prossimo anno continuerà a farlo il Poiana siamo a Cevidale nella sede del consorzio con il presidente Attilio Vuga secondo le previsioni di legge voi dovreste essere incorporati dal CAF così come è successo per Carniacque dal 2023 siete preoccupati? Ma io proprio no devo dire le previsioni attuali sono di una gestione che andrà avanti autonoma salvo diversa scelta da parte della compagine sociale fino al 31 dicembre 2023 sull'evoluzione dei prossimi anni scelta dei soci i sindaci dei 12 comuni questa è una società a partecipazione esclusivamente pubblica hanno dato indirizzo agli amministratori in questo caso al sottoscritto di procedere con molto impegno nella conclusione di tutti gli interventi previsti per ottimizzare al meglio l'insieme di tutto quel settore che viene definito come sistema idrico integrato e quindi acquedotto fognatura e depurazione e lo scenario futuro secondo me non è non siamo a bocce ferme per cui la novità più recente è la normativa regionale che ha unito in un'unica autorità l'insieme degli attuali delle attuali autorità di territoriali ottimali che gestivano e gestiscono fino al 31-12 salvo ulteriori proroghe tutto il sistema delle acque e si occuperà anche di un altro contesto che è molto delicato che è quello dei rifiuti in questo scenario non è non è da escludere che tra le tante possibili evoluzioni ci sia anche negli anni futuri un indirizzo per arrivare alla organizzazione di un unico gestore a livello regionale sono cose che io prendo con le pinze conoscendo questo mondo da decenni nel senso che non vedo che necessariamente un grande gestore funzioni meglio di uno piccolo come non vedevo positivamente in modo assoluto la questione della privatizzazione dell'acqua come bene pubblico e io mi sono speso in questo senso dicendo che non era una buona scelta può essere una scelta voluta dai soci perché ritengono che sia il meglio e su questo risponderanno agli utenti finali può essere una scelta obbligata nel caso in cui le società non siano in grado di gestire bene allora è chiaro che se una società pubblica non è in grado di gestire bene e vabbè sarà necessario che entri anche il privato qui nel caso del uso il vecchio termine del consorzio per l'acquadotto poiana e ci troviamo di fronte alla realtà consortile più vecchia della provincia di Udine che ha festeggiato i suoi cento anni già da diversi anni e quindi è un pezzo di storia della fornitura idrica così si è partiti come acquedotto più di cento anni fa quando dodici comuni con un grosso sforzo finanziario hanno deciso di rispondere a una esigenza del territorio e della popolazione che evidentemente non aveva acqua a sufficienza ma soprattutto non aveva acqua potabile quindi arrivando alla conclusione quello era l'obiettivo non solo la storia la gestione è stata per cento anni di tipo consortile e continua ad avere lo spirito consortile anche se è stata obbligata come tutti gli altri gestori a trasformarsi in società per azioni con l'inizio degli anni 2000 qual è la filosofia che mentre altri gestori hanno negli anni prodotto e diviso tra i soci utili lo spirito consortile prevede una buona gestione una gestione sana dare il più possibile servizi essere inutile ma non è quello l'obiettivo di fare grosso utile e l'utile che si fa non è mai stato ripartito tra i soci ma è sempre confluito in ulteriori investimenti di sistema ecco perché i soci del Poiana sperano che nell'ottica di una al momento prevista conclusione della gestione autonoma al 2023 si proceda in questi anni con tutta una serie di ulteriori investimenti il Poiana è stato anche il gestore che per primo con gli anni 2000 è passato da Acquedotto a gestione completa del sistema idrico integrato su tutto il suo territorio comunale che pur è relativamente limitato a 12 comuni e circa 60.000 utenti quindi noi stiamo facendo interventi robusti non tanto e non solo sulla acquedottistica come ricerca delle perdite come compartimentazione delle retti come ottimizzazione del servizio ma stiamo facendo grossi investimenti sul sistema della fognatura e soprattutto sui depuratori che abbiamo avuto in gestione dai comuni quindi non fatti dall'Acquedotto Poiana con l'obiettivo di ridurne il numero eliminare quelli meno efficienti efficientare investire sugli altri anche facendoli nuovi per garantire che il bene acqua che noi deriviamo per darla ai rubinetti debba essere grossomodo la stessa cosa che restituiamo ai corpi idrici dopo il ciclo di depurazione un lavoro pesante ma già nell'arco degli ultimi 12-18 mesi abbiamo messo a punto tre interi depuratori adesso abbiamo concluso la conferenza di servizi e quindi nei prossimi mesi avvieremo il nuovo depuratore in quel di Premariacco per ultimo avute le autorizzazioni da parte della soprintendenza archeologica noi investiremo anche una una grossa cifra sempre con fondi del Poiana per migliorare il depuratore di Ponte Sanquirino e con questo riteniamo che il sistema del territorio sia un sistema voglio dire che si distingue a livello generale per un livello per riuscire a trattare i reflui in un modo voglio dire non solo nei limiti di legge ma parecchio di più ha parlato di utenti finali quindi cittadini ed imprese qual è la situazione delle tariffe che trovano cittadini ed imprese sul vostro territorio di competenza e che cosa ne pensa dell'aumento che c'è stato negli ultimi anni sappiamo che la legge nazionale ha imposto il finanziamento delle opere attraverso solo le tariffe non più con contribuzione regionale c'è stato però un aumento per alcuni spropositato cosa ne dice? Dunque un aumento significativo si è avuto per i cittadini di Udine dove la precedente gestione ambaga era evidentemente più facile rispetto a un territorio ampio perché si tratta di gestire semplificando centomila persone ma capite che un tubo che mi fornisce un condominio è una cosa rispetto a un chilometro di tubo per fornire una casa isolata e l'altro grosso problema e quindi diciamo con tutto rispetto per ogni gestore per la sua autonomia credo che il lavoro che dovrà fare anche nei prossimi anni CAF come lavoro di affinamento per gestire come si vorrebbe con norma in modo unitario anche con le tariffe un territorio così differenziato come il suo cito la Carnia dove in molti posti non ci sono neanche i contattori e non ci sono e forniscono più utenze e il sistema di depurazione eccetera è a livelli che ha bisogno di grandissimi investimenti quindi il problema degli sbalzi di tariffe riguarda soprattutto queste due zone non riguarda il territorio di CAF classico non riguarda neanche il territorio di Poiana classico perché in questi anni poi abbiamo cercato assieme anche di portare avanti un sistema di calcolo tarifario omogeneo tra questi due gestori tolto ripeto in questione AMGA e CANE per cui dire che c'è stato qualche incremento di tariffa in questi anni è giusto è vero ma guardate che sono stati incrementi relativamente modesti e siamo partiti da un momento in cui avevamo un blocco tarifario che andava avanti da molti anni veramente le società erano in sofferenza perché proprio hanno dovuto stringere i denti e la cinghia negli ultimi anni per riuscire a tenere i conti a posto e quindi siamo in una fase di equilibrio le tariffe non vengono stabilite dai gestori neanche dall'ente gestore d'ambito che fa solo una proposta di calcolo ma vengono per ultimo approvate dall'autorità nazionale che è quella che si occupa di energia elettrica di gas e adesso anche di sistemi idrici quindi le tariffe sono calate sulla base delle situazioni aziendali e sono aumentate anche perché c'è stata una rivoluzione di sistema quindi non più i comuni che facevano una domanda agli enti superiori per avere i contributi per realizzare fognature depurazione eccetera 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 ma è l'ente gestore che con proprio bilancio e ottimizzando la gestione deve ricavare i fondi per fare tutti gli investimenti tradotto gli investimenti sono a carico dell'utente tutti noi pagando la bolletta non paghiamo solo il servizio di ciclo idrico completo laddove c'è per quelle frazioni di case che non hanno il collegamento con la depurazione non pagano questo servizio ma paghiamo anche le quote di investimento e tutti gli interventi che sono previsti nel piano d'ambito per i prossimi n anni una battuta finale un flash in estrema sintesi finire nelle mani di un grande gestore a livello di nord-est potrebbe essere un rischio o un vantaggio secondo voi dipende sempre dalla qualità degli uomini io lo vedrei più come un rischio grazie grazie Davide anche per questo ultimo collegamento ebbene la partita risico è iniziata durerà a lungo evidentemente speriamo soltanto che a rimetterci non saranno i cittadini io vi ringrazio per averci seguito buon proseguimento con Udinese TV